Smok, film del 1995 diretto da Wayne Wong e Paul Aster. Quest'ultimo di fatto è co-direttore e sceneggiatore. A mio giudizio è proprio la sceneggiatura il vero collante dell'intera opera. Parliamo di un film assolutamente delizioso, un film che ci racconta le vicende di persone semplici. Il centro della nostra storia si sviluppa all'interno della tabaccheria di Aghi, personaggio interpretato dal bravissimo Herbie Katie. Parliamo di un attore che io ho sempre apprezzato tantissimo, uno di quegli attori che secondo me sanno caratterizzare in maniera meticolosa e accurata i propri personaggi. Devo dire però che anche tutto il resto del cast, tra cui il bravissimo William Hort, hanno lavorato ottimamente. La tabaccheria è appunto il luogo in cui quotidianamente le vite di persone comuni si intersecano. La fotografia del film è quella di una nostalgica New York di fine anni 70 che ci regala un'atmosfera assolutamente coinvolgente e emozionante, almeno personalmente mi ha emozionato tantissimo. Il film è diviso in cinque capitoli. Ogni capitolo ci racconta una singola esistenza. Il film ci racconta di fatto un messaggio molto importante. È un film che ci fa capire l'importanza delle relazioni collettive, l'importanza dell'empatia, appunto dell'interazione tra persone, l'importanza dell'aiuto reciproco. È un film secondo me tecnicamente e narrativamente perfetto. Un film che sa veramente emozionare in maniera completa. È un film che ci racconta e si esprime con messaggi estremamente profondi partendo da storie assolutamente semplici. È un film che consiglio sicuramente a tutti gli appassionati del cinema drammatico, ma è un film secondo me che sa regalare emozioni anche a chi magari non apprezza completamente il genere, ma è un film assolutamente espressivo ed è veramente un film che promuovo sicuramente. Dovessi dare un voto al film, devo dire che è un sette e mezzo pieno. Veramente un film assolutamente promosso. Tra l'altro film che avevo nella mia vecchia collezione di VHS, è proprio un film che vidi all'epoca da ragazzino, a metà degli anni 90. Mi è piaciuto tantissimo, infatti questo è un film che poi avevo visto più e più volte. Ho recuperato anni fa questa edizione in DVD, giusto per rivederlo, mi ha ancora colpito nuovamente. Mi auguro che prima o poi di questo film venga realizzata con una qualche edizione in Blu-ray, perché secondo me è un bel Master HD, lo merita. Parliamo di uno di quei film di cui secondo me ne ho sempre sentito parlare troppo poco, perché siccome è veramente un bellissimo film, un assoluto gioiello del cinema. Detto questo, se questo video vi è piaciuto mettete like, fatemi sapere nei commenti se questo film lo avete visto o vi interesserà visionarlo, se vi interessano argomenti relativi al mondo del collezionismo on video, al cinema a carattere generale, seguite il mio canale perché cercherò sempre di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al mio prossimo video. Grazie a tutti.